Ristretto italiano, i media internazionali scrivono di noi. Eccoci, buongiorno a tutti, bentrovati dopo il giorno di riposo settimanale. Comincia la settimana, meno uno al festival, con l'accento rigorosamente sulla A. Domani si comincia, sto parlando del festival di Sanremo, la stampa nazionale ne parla da giorni, litigiano da mesi, adesso mi ci metto anch'io e soprattutto ora ci si mettono anche i forestieri come Numerama, sito francese di notizie, centrate soprattutto sul mondo del web e del social, che dedica un lunghissimo servizio a Fanta Sanremo. Titolo, un gioco assurdo diventa virale e salva un festival della canzone. Immagino che sappiate che cos'è, Fanta Sanremo è quel gioco online nato nel 2020 in piena pandemia, che ha praticamente socializzato, diciamo, messo in rete, i vari giochi che da sempre si fanno davanti alla tv, in famiglia, nelle cene appositamente organizzate con gli amici, per pronosticare vincitori e perdenti. Qui la cosa è un po' più complicata. I punteggi si basano su molte variabili che sono legate sia alle classifiche, sia a cose che gli articoli vorranno fare oppure dire quando saranno sul palco e nel caso vi interessi il regolamento lo trovate facilmente online. Magari avete sentito l'anno scorso molti artisti sul palco dicevano Pasqualina, una parola magica, diciamo, fra virgolette, che dava punti a chi li aveva scelti. Quest'anno pare che una delle cose che daranno più punti saranno gli artisti che sul palco daranno il 5 a Gianni Morandi. Insomma, ci sarà un po' da divertirsi, da mettere pepe a delle serate che poi diventano molto, molto lunghe e chiacchierate. Tornando invece, come vi dicevo, poi il regolamento ve lo vedete sul sito, tornando invece alla stampa estera che scrive di noi, devo dire che trova abbastanza ignorantello questo servizio francese, il quale premette che il festival giunto alla sua settantunesima edizione è in calo di popolarità, cosa assolutamente non vera perché anzi è il contrario, e che ormai è solo una passerella di vecchie glorie della canzone che ci vanno solo per passare qualche giorno in riviera, scrivono. Anche qui cosa assolutamente falsa, visto che soprattutto in questi ultimi anni di crescente popolarità il festival ha sfornato artisti come Mahmood e soprattutto Maneskin dal grande successo internazionale. Ad ogni modo, domani si comincia, io non me ne perderò una puntata e a Fanta Sanremo appena finisco questo ristretto corro a iscrivermi. Tornando alle cose davvero serie, l'eco del caso cospito e delle manifestazioni anarchiche tornate dopo molti anni di silenzio nelle maggiori città italiane esce dai confini nazionali. Gazzette Duvar, dalla Turchia, parla di 800 manifestanti a Roma con due feriti nel corteo che nella capitale ha sfilato da Piazza Vittorio al Prenestino. E ricorda l'articolo come in Italia la detenzione di Alfredo Cospito, anarchico 55enne, in sciopero della fame contro le condizioni di isolamento carcerario, abbia riacceso il dibattito sul 41 bis. L'articolo ricorda poi brevemente il vivace confronto politico di questi giorni tra Meloni e opposizione circa la diffusione di informazioni riservate e poi richiama il moltiplicarsi di attentati alle sedi diplomatiche nel mondo da parte della rete anarchica internazionale. Un miliardo e 380 milioni di fondi per il turismo italiano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ne scrive Expresso dalla Spagna, riprendendo le parole della ministra Santanchè all'apertura della piattaforma per poterli richiedere questi fondi. Fondi che offriranno la possibilità a alberghi, country house, marine, stabilimenti balneari e termali di avviare lavori di riqualificazione energetica, antisismica, risanamento, digitalizzazione, nonché gli acquisti di arredi e la realizzazione di piscine e di spa. Nessuna menzione a Campeggi, a Caravan e a Ostelli, del resto dalla ministra Santanchè non ci possiamo aspettare niente di più, cioè non è una che preferisce i Caravan all'espa. Il sito del ministero illustra comunque tutti i passaggi, non pochi, che saranno da osservare per presentare i progetti e la speranza, parlando seriamente, è che chi ne ha diritto non perda tempo. Tutti i lavori dovranno essere ultimati entro il 2025 e sarebbe un peccato, a mio parere, perdere un'occasione del genere in considerazione anche del ritorno in massa dei turisti stranieri registrato lo scorso anno. India Today, da New Delhi, riferisce della cattura in Francia di Edgardo Grieco, definito erroneamente boss mafioso e articolo che, sempre sbagliando, mette in relazione la sua cattura a quella di Matteo Messina Denaro. Forse tratti l'inganno dai Raiban Aviator che lui indossa in questa foto, ma poco cambia. Anche se sicario dell'Andrangheta, quindi calabrese di Cosenza e non siciliano di Palermo, Grieco è stato condannato 16 anni fa all'ergastolo per un duplice omicidio del 1991, quando uccise a colpi di spranga due uomini prima di scioglierne i cadaveri nell'acido. Un agguato che fu deciso dalla sua cosca, come accertato in sede processuale, per stroncare sul nascere il tentativo delle vittime di allargarsi. Per anni Grieco era riuscito a sfuggire alla carcerazione grazie a falsi certificati che attestavano una serie di patologie. Successivamente si era trasferito in Francia, a Saint-Étienne, vicino a Leone, dove aveva trovato lavoro come impastatore in una pizzeria, naturalmente sotto falso nome. Determinante per la cattura, secondo quanto riferisce questa testata indiana, sarebbe stata la pagina Facebook del ristorante che ha pubblicato, non potendo immaginare che c'era in cucina, diverse foto delle fasi di lavorazione delle loro pizze. Un intricato caso di chi l'ha visto tedesco da qualche giorno porta agli inquirenti in Italia. Sono molti dalla Germania e i giornali che seguono il caso di Alexandra R. 39enne signora tedesca, incinta di sette mesi, scomparsa la mattina del 9 dicembre scorso a Norimberga. Era uscita per andare a prendere l'altro figlio adottivo a scuola, ma di lei non si è saputo più nulla e ieri, tra l'altro, sarebbe dovuto essere il giorno previsto per il parto. Siamo convinti che la donna sia stata vittima di un crimine, affermava nei giorni scorsi la polizia, fino a che, giusto venerdì sera scorso, il suo cellulare, che da subito era scomparso dai radar, ha ripreso a squillare ed è stato identificato nell'area di Bologna, che da Norimberga dista circa settecento chilometri. Ma nessuno finora ha risposto, e qui il mistero si infittisce. Mi terrò aggiornato e vi riferirò. Intanto un augurio di una buona giornata. A domani.